Quindi circa 1200 vittime sul lavoro ogni anno in media negli ultimi dieci anni. 1041 sono stati registrati nel 2023 e nei primi tre mesi del 2024 si contano già 191 persone morte mentre stavano lavorando. Basta con questa strage e serve una procura speciale nazionale contro gli incidenti sul lavoro, dice Bombardieri, leader della UIL.